bella gentaglia di youtube io sono fabiz oggi sono con lexino che mette gli urli di montesi vabbè amato montesi amato montesi cazzo siamo su comunque ragazzi siamo sugli abmc su questa nuova modalità chiamata aid and seek nascondino sono di nuovo dove cazzo eri te no pezzo di merda praticamente è uno dei blocchi ci dobbiamo nascondere da quelli diciamo da delle persone che da una persona e nascerà insieme alla spada a dove mi metto non lo so nemmeno io qua ma perfetto ecco praticamente nascondino c'è una persona con la spada che ci deve trovare e voi vi dovete nascondere in un punto col vostro blocco che siete voi praticamente ora sono un blocco solido yeah un blocco di snow solido ora sono te che sei fabi no ma trovato davvero puoi scappare puoi scappare non m'ha trovato comunque se ti cominciano a picchiare può comunque scappare ok bene bene figo figo ora sono un blocco solido sì non mi hanno ancora trovato troppo pro uno ha scritto hey snow come back oddio no 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 bellissimo questa modalità è una figata nascondino che torna indietro il nascondino su minecraft ti hanno trovato 12 rimasti ragazzi ce lo posso fare ce lo posso fare eri te quella lì di glowstone no non eri sono di neve io guarda non mi vedono no non mi passano accanto non mi vedono bellissimo da meno non ho ancora passato da nessuno nove sono rimasti questo video si chiamerà nascondino su minecraft no 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 non mi hanno trovato no sono morto no maledetti se la lucerta la c'è ancora dove sei leo e cinque non ti muovere siamo cinque se poi sei c'è uno davanti a me interessante un altro non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto no mi ha visto mi ha visto mi ha visto no ahahahahahahahah ai adam di merda ci tenta lui a quando clicca a cazzo perchè si è messo a clicca a cazzo sulla neve si è messo a chi sto cliccando a cazzo comunque quando sei un blocco fisso ti danno un cubo di oh ho ucciso uno ne ho mai solo uno comunque quando sei un blocco fisso ti danno un cubo di neve insomma un cubo il cubo che sei te con knockback uno figo boh troppo dove andare dopo maronna qui che cazzo mi trova voglio potresti anche vincere quello no ancora un blocco vero non esiste oddio ma va dopo andiamo insieme Fabio yeah buddy ah ma se comunque si fa un'altra partita al massimo si stoppa e poi si anche perchè 4 minuti di video infatti sai qual è il bello? che io la domenica vado a Castiglioni no? e quando sono a Castiglioni metto a caricare tipo 8 video che poi gli metto per tutta la settimana fissi ahia dai dov'è l'ultimo 60 secondi oh trovato? no non è da essere me ancora dov'è? maledetto dove sei? dov'è? dov'è? aspetta forse è lui no lui no bravo comunque complimenti oh no siamo in 23 a cercarlo 20 secondi ha vinto no l'ho trovato grande vai si è vinto noi bella ok troviamo un altro server vai stop al video yep ok ragazzi eccoci qua in un'altra partita e sono un beacon block io sono un beacon block merda un casino sarà che cazzo faccio con il beacon block? mi metto a culo qua ci sono altri beacon block mi metto accanto blocchi di legno madonna ragazzina stronzata mi sono blocchi di legno di tutti i tipi merda se mi metto al cesso col beacon block qua mi metto mi metto sul cesso si si mi metto sul cesso merda vabbè qua se mi sono messo sul cesso best posizionamento EU e sono sul cesso loli sono in un punto ha visto cinque blocchi che hai nell'inventario eh quando stai praticamente si vede un modo diverso quando ti fermi cominciano a scendere come secondi e dopo e dopo che sono scesi a zero ti dice che sei un coso sei un blocco solido sei un blocco solido ok figo merda io però ho dimenticato di ho la optifine ragazzi con lo zoom non sono hack qua c'è uno che ancora si sta cercando di nascondere uno con legno ok perfetto ora sono un blocco solido di beacon sono un eccesso cazzo ma visto là c'è uno sei morto? no non lo so scappa uno starnuto zitto zitto no 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 non si starnuto non si starnuti no si sentono the fuck che sono sul cesso nessuno mi vede no scappa no si è morto ora ti vengo a stanare al cesso no 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 ti prego no 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 ti prego no no dai no no Fabio no dai non fa lo stronzo dov'è il cesso dai non fa il peccente via non fa lo stronzo no 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 non fa lo stronzo cosa è? un blocco di beacon di snow ah si no no dai dai Fabio ci prego dai no si sei un pezzo di merda si yeah non si lascerà più vivere pezzo di merda si cazzo sei un pezzo di merda Fabio sei un pezzo di merda questa la vincevo sei un pezzo di merda la vincevi si era spettacolare ti hai rimesso in un punto stra strategico io vedo come ci rimetto spettacolare dai dai però sono stra divertenti sti cosi però sei un pezzo di merda dai anche te prima mi hai ucciso vabbè ma prima perché si è così non certo cos'è questo ah blocchi di call boh Fabio ciao Fabio ciao no qui non c'è niente da nascondersi vediamo non si può essere messo qua no si c'è uno vai l'hanno ucciso pensate di quello dov'è questi lo so ero qua ero dai solamente te mi hai trovato troppo forte ok quante razze non c'è c'è una stone rotta boh boh non riesco a trovare nessuno eh quanti ne rimangono ah tre ecco perché non trovo nessuno si sono nascosti bene ti so se uno di noi capiterà di essere il primo da cos'è ma come hai fatto a salire lassù Leo saltando eh saltando sei salito lassù c'è una voglia ok no credevo ci fosse un qualcosa per volare tipo boh no magari per salire nei punti più più alti che ne so ma che basta maronna che bastardo no godo però la prossima volta non diciamocelo dove ci nascondiamo così eh ma te lo sai che adesso mi rimetto lì però ah vabbè trova un altro punto cazzo se tanto change a mappa comunque ragazzi abbiamo deciso di fare tre episodi a video tre partite perché durano abbastanza cioè durano non troppo quindi preferiamo così infatti durano più o meno 5 minuti quindi viene un video da 15 minuti più o meno un po' di più un po' di meno e appunto preferiamo così qua c'è una scesa ho trovato il mio posto no hanno vinto gli Hyder no pezzi di merda no vabbè alla prossima partita ok ragazzi rieccoci ed è iniziata la partita ed è diversa anche la mappa c'è una scritta in città eh sì in città in chat tbnflex sei epico what the fuck no questo sarebbe un punto spettacolare eh qui dovevo essere la lana dovevo essere I can't know the bear than the freks scaputana qui mi sgamano di pesa mi sgamano ok io mi metto qua boh una scritta tbnflex sei un grande però non c'è boh forse voleva solo trollare mi metto qua dietro mi metto qua dietro mi metto qua dietro non mi troveranno mai non mi troveranno mai ok adesso stiamo fermi e mettiamo un po' di parole tipo un po' di che? forca miseria ah bellissima sta a sapersi who sei che chi sei? te chi sei? bàbàbàu bàbàbàbàbà Che cazzo? Boh, esplodono le bombe nucleari in casa mia, boh. Un collo! Che ci hai fatto? Yeah, buddy. Perché non ti vedo? Ah, forse vedo solamente... Oh, mio Dio! Arrivato uno! Paura! Boh, tipo se non mi trovo, io sono nascosto benissimo. Anch'io sono nascosto stra bene. Madonna, ma io no! Io proprio di merda! Ma se non se ne accorgono è spettacolare. No, Dio, non proprio bene, però abbastanza bene sono nascosto. No, io sono nascosto di merda, ma... Tipo, boh. Boh, questo programma con cui registro è favoloso, perché tipo, mette insieme l'audio, e le sincronizza e ti tiene il tuo alto e il mio alto. Oddio, questo non mi ha ucciso. Che culo. Non so come abbia fatto. Eh, però le mappe sono diverse. In ogni mappa c'è un diverso, diciamo, blocco. Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella. Oddio! No, 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 non ti muove, non ti muove. Porco dius. Dai, 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 dai. Non ci vuole solo un miracolo, per questa cintaccia del merda lì. No, questo qui mi vede, sto sicuro. Devo scappare. Sììì! Scappa! T'ha visto? Sììì. Usai il blocco incentrato Sono morto Oddio Ora proprio mi vorrà trovare Ok Un momento che chiudo l'applicazione sul cell Non ti dirò mai dove sono Sono una cosa di merda Dunque Sei fuori o dentro una casa Non te lo dirò mai Oddio uno mi è passato accanto Dimmi acqua fuoco se mi vedi Eh Non posso muovere la testa Yon c'è Yon Non mi vede Yon vediamo Cerchiamo Yon No quello non è Ciao Fabio Come sei bellino Ho trovato uno Dove cazzo L'ho ucciso? Si K4 Puzzere Dove sei? Sei qui Sono la passati In quattro davanti Dai 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 Su di merda No è tornato quello lì è tornato Chi? Chi è tornato? Yon? Chi è tornato? Dai 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 Non ci posso credere che non mi vedano Non ci posso credere Dove sei? Non ci posso credere che non mi vedano Sei di sotto? 10 secondi Fezio di merda Noi ci posso Sì Dove eri? Sì Dove eri? C'era Una casetta Non lo so Tipo Mi erano tornato un pochino E ho trovato sta casetta Tipo In mezzo della casetta C'era Una colonna di legno Una colonna di Logwood E mi sono messo dietro a questa colonna Con il Logwood E nessuno mi ha cagato What the fuck Verso il muro Tipo mi sono passati 5 o 6 persone davanti E nessuno mi ha visto Oddio Ok ragazzi Dunque Se questo video vi è piaciuto Per il primo video Di questa nuova serie Di Abbarino in Minecraft Che caricheremo anche episodi sul mio canale Quindi Ok Niente Ci vediamo al prossimo video Bye bye